Sì, stai scontando con due mani o una sola, cioè, no, penso due mani, si deve aggiornare pure il secondo. Secondo me gira la pagina e parte di nuovo da zero. Sì, ma là deve arrivare il seno. Due, uno, ecco. Sì, stai andando a te io volo. Guarda, che c'è questo cosa? Ma ti me lo sperava. Piero non ci fa venire in mente di donare il museo dell'onore? Oh, no. Non ci fai da solo con i macchi. Ma ti sono stonti? C'è, guarda mai in questo gioco? Non ci credo. C'è stato un gioco. Oh, oh. Hai tu mai cinta da? 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 Oh, oh. Hai tu mai cinta da? Hai tu mai cinta da? Hai tu mai cinta da? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.